Eccoci ragazzi nuovo video di approfondimento sul mio canale con gli iPhone 16, iPhone 16 e iPhone 16 Pro trovate poi tutte le panoramiche e quant'altro sul mio canale YouTube oggi entreremo a gamba più tesa per quanto riguarda questione cover, questione display, questione fotocamere ma soprattutto batteria quattro aspetti molto importanti di cui mi chiedete approfondimenti ho preso un bel po' di appunti e via dicendo dalle specifiche tecniche e non solo come sempre vi ricordo un bel mi piace e un commento qui sotto per farmi sapere la vostra, dubbi, domande, acquisti o non acquisti sponsor del video Enebba, ogni acquisto che farete sul canale ovviamente supporterete il mio canale quindi troverete di più dei videogiochi, alle gift card, iTunes, Amazon e via dicendo Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti direi di iniziare subito, avete visto già la prima immagine per quanto riguarda le cover sembrerebbe infatti ragazzi che Apple abbia finalmente abbandonato, infatti non sono state per nulla annunciate le custodie fine woven, ve ne avevo parlato anche con un video dedicato le fine woven non ci saranno a quanto pare, non si vedono più sul sito ufficiale abbiamo visto queste qui che sono le nuove custodie in silicone sia per quanto riguarda l'iPhone 16 sia per quanto riguarda l'iPhone 16 Pro, Plus e Pro Max e soprattutto troverete anche le clear case quelle che vogliamo definire tipo trasparenti e ci sono ovviamente per tutti i vari dispositivi delle fine woven custodie non se ne vedono sul sito ufficiale cosa a mio avviso molto importante di cui volevo parlarvi dopo le critiche che ci sono state in questi mesi ma soprattutto al lancio ma andiamo avanti perché? Perché voglio parlarvi di un bel po' di notizie in merito ad iPhone 16 e iPhone 16 Plus direi di iniziare soprattutto per quanto riguarda le fotocamere dove quest'anno sull'iPhone 16 avremo una 48 megapixel con apertura da 1.6 una grande angolare con apertura 2.2 a 12 megapixel poi inoltre avremo le macro con l'ultra wide, le foto spaziali e soprattutto è intervenuta la questione dello spostamento delle fotocamere nel posteriore che sono state messe in verticale e non più in diagonale ecco perché incidono per quanto riguarda le spaziali video 4K a 60 fps in Dolby Vision registrazione anche degli audio spaziali e riduzione del rumore del vento per una migliore gestione audio vi ricordo che anche qui troverete la nuova sezione del mix audio per gestire meglio tipo audio cinema vicino, lontano, stanza eccetera eccetera mentre per quanto riguarda il Pro Max qui vedremo notizie e soprattutto un po' più di ciccetta se vogliamo definirla così perché avremo ovviamente la grande angolare nuova da 48 megapixel rispetto a quella da prima da 12, stessa apertura focale 2.2 il sensore quad pixel di seconda generazione per l'otturazione di immagini raw da 48 megapixel e quindi la grande angolare da 48 5x che arriva anche sul Pro scatti macro migliorati registrazioni 4K a 120 fps addirittura potremmo fare le registrazioni con il Dolby Vision 4K addirittura registrazioni in slow motion video pro res fino a 4K a 120 fps e addirittura registrazioni autospaziali la registrazione a 4 microfoni con il suono più realistico e anche qui la registrazione del rumore e del vento per gestire al meglio l'audio quando siamo all'esterno quindi fotocamere quest'anno veramente belle cicciose e soprattutto quelle del Pro fanno un bel stacco in avanti soprattutto sul grande angolare molto interessante le Pro c'è stato o meglio le versioni in base un piccolo upgrade rispetto alle precedenti parliamo un attimo di durata di batteria perché mi sono appurato le durate che poi sono state estrapolate appunto del sito ne abbiamo parlato anche nei video di approfondimento ma adesso ho tutte le specifiche ovviamente gli orari che vi do e i timer aggi che vengono dati da Apple possono cambiare in base poi all'utilizzo del dispositivo allora dicono che l'iPhone 16 può fare 22 ore di riproduzione video 18 ore di streaming video e 80 ore di audio il 16 Plus 27 ore di riproduzione video 24 ore di streaming video e 100 ore di audio anche con la riduzione in mAh del Plus sembrerebbe essere ancora un bel battery phone il 16 Pro avrà 27 ore di riproduzione video 22 ore di streaming e 85 ore di audio quindi leggermente meno rispetto ad un Plus mentre il Pro Max sarà quello che quest'anno pomperà e sarebbe il battery phone dell'anno scorso perché il 15 Plus l'anno scorso era mostruoso a mio avviso in termini di durata quest'anno il Pro Max che ha la batteria più grande di tutti 4600 mAh vedrà grossi miglioramenti infatti parliamo di 33 ore di riproduzione video 29 ore di streaming video e 105 ore di audio quindi riproduzione audio belli e importanti come aggiornamenti altra cosa di cui volevo parlarvi relativamente appunto a questo video quindi con gli aggiornamenti relativamente a custodie abbiamo parlato delle fotocamere abbiamo parlato delle batterie che hanno una bella durata soprattutto sul Plus e il Pro Max quest'anno che la farà da padrona la cosa che sicuramente quest'anno non è da sottovalutare a mio avviso è la questione di display come avete visto già nella presentazione dei vari dispositivi per quanto riguarda il Pro abbiamo visto display più grandi che passano ovviamente a 6,3 e 6,9 mentre quelli base rimangono uguali vi posso dare ancora più specifiche per quanto riguarda i Pro i Pro avremo un'altezza di 5,89 mm larghezza 2,81 spessore 8,5 mm per 199 grammi in termini di dimensioni il Pro Max è 6,46 in larghezza 8,25 in spessore 227 grammi il Pro avrà una risoluzione da 2.622 per 1.206 a 460 ppi il Pro Max è 2.868 per 1.220 a 460 ppi giusto per farvi capire la risoluzione e soprattutto la differenza rispetto all'anno scorso se quest'anno abbiamo su un Pro una risoluzione da 2.622 per 1.206 l'anno scorso avevamo 2.556 per 1.179 questo incide ovviamente la grandezza del display che come vi ho detto aumenta da 6,1 a 6,3 e da 6,7 a 6,9 questa cosa solo e soltanto sul Pro Max probabilmente il prossimo anno con il 17 soprattutto nella sua versione base e il plus che non ci sarà arriverà a quanto pare lo simile potrebbe essere che il base del prossimo anno partirà da 6,3 inoltre per farvi capire in termini di peso se il Pro Max quest'anno peserà 227 grammi l'anno scorso stava a 221 mentre il Pro se quest'anno pesa 199 l'anno scorso pesava 187 quindi grossi miglioramenti anche per quanto riguarda i display sui modelli Pro però come già vi ho detto nei video precedenti nulla che fa saltare dalla sedia anche per il fatto di questa Apple Intelligence che ci fa veramente storcere il naso ovviamente voi se avete dubbi, domande, curiosità ancora più voglia di approfondimenti in merito a questi aspetti scrivetemi qui sotto tornerò nei prossimi giorni con un recap generale con le specifiche proprio completi di ogni minimo aspetto di tutti i vari modelli per diciamo fare una scelta proprio all'acquisto e poi ovviamente vi parlerò tornerò a parlare con nuove notizie per quanto riguarda l'iPhone 17 parleremo anche dell'Ultra 3 rinviato al 2025 e tant'altra bella robetta scrivetemi qui sotto tutte le vostre domande noi ci vediamo domani per un nuovo contenuto